Ti è la ghilli, io ho il fucile a pompa Eva era stata gattiva, lo sappiamo, mamma Quindi dove dovremmo andare? Cosa sto dicendo? Ho detto perché Eva, e mi fa mamma, ma non esageriamo, Eva ha mangiato da me, quindi Porcavoli suoi Oh, ma ti stai riunendo? Non si può, perché mi dice che c'è un problema per un file Models infected hunter, ho un problema con l'hunter Dai raga, venite, va? Anche noi tra un po' avremo dei problemi con gli hunter, credo Eh, parecchio Ah, bella questa Ciao ragazzi, benvenuti sul secondo canale di Ghilli, sono il vostro Ghilli e siamo qui con Mama Ciao Siamo qui con Kondo, Play for Fun, Mr. Writers, un sacco di zombie E Antonella Cassiopea 92, allora No, in realtà Antonella Cassiopea l'ha già detto No, scusa, ho sbagliato Qualmente chiatta Oh ragazzi, ci dobbiamo buttare giù nel buco Ho sbagliato No, 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 non cliccare il recording, non metterlo, tanto ti registra in automatico il cosa Quindi, li butto di sotto Sì, dobbiamo buttarci giù L'hai tolto Ghilli Il cosa? Il recording Da dove? Da TeamSpeak, qualcuno ha messo il recording Perché? Perché c'è la adrenalina nel bagno? Va tutto bene, tranquilli Non so perché avevo sentito dire recording Sì, si è proprio random play for fun Comunque Ops Che stavamo a tutti Che stavamo a tutti, quindi Hunter Ah, siete già usciti Ok, io tra l'altro E noi siamo però Oh ragazzi, lasciate stare le witch Io vi avviso Eh, ragazzi, senza witch non è divertente però È una cosa più bella del mondo Disculpare la witch Sì, ma non è bello poi quando ti rompe le panni Ma, beh, cioè Allora facciamo una mini formazione Uno lo deve disfurfare e gli altri devono Oddio, m'ho preso, m'ho preso Ok, grazie Villi Vedi il tuo favore Beh Io sto tagliando teste Vedo un cavolo È troppo bello tagliare le teste Spero, però Ti sto guardando Villi che taglia teste Vieni qua Sotto, mira Ragazzi, altro che fruit ninja Molto meglio Fruit for dead O let's for me Fruit Play for kundo Allora Ah, c'è giochi per me, giochi Ok, allora Via la testa Via un'altra testa Giochi Gondosi Ragazzi, non vorrei dire nulla Ma io sento una witch Ecco, lasciala lì dove è Dove 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 Non lo so Mi è sembrato di sentire quella musica Adesso viene fuori Oddio, ragazza Ragazze C'è quello che si fa Le sicuro a mano destra Dove? Eh, quella volta Beh Charger Lo tipo ucciso Charger Sì, ha ragione Quando c'è C'è Guardati Raga, raga Guardate chi è qui Guardate chi c'è qui Sì, peccato Ma è bello è che mi passano a fianco No Sfigate Ve lo sfigate Oh, non ho fatto neanche tempo A prendere la mira No, raga, raga, raga Sono di cima a terra Cassi, cassi, cassi Mi passano a fianco e venivano da te Ok Io rianimo Ho ammazzato la witch quasi da solo Grazie Se anche almeno tu ci hai pensato Perché ha detto Dove cazzo è Gilly Sto bruciando Cazzo Pia ha bruttato Mr. Writers Grazie Oh, tra l'altro La sfida corpo a corpo E tra me è Gilly Ah, perché c'è Sì, perché Sto finendo le munizioni Precatori L'odore di palle di uomo Sulla tua pelle No, perché? Oh, ragazzi Siamo arrivati al primo checkpoint Oh, che bello Mi servivano proprio delle armi Oh, che bello Io tipo con questo fucilone Allora Oh, 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 oh Dov'è? Voglio il cecchino No, ragazzi Facciamo una cosa No, ottimo ragazzi Mi devo curare Quindi Io mi curo per adesso Dopodiché Chiudete la porta No, scusate Chiudete la porta Perché non potevo prendere niente No, che puoi Sì, che puoi in realtà Mi dice Chiudi la porta Eh, ma chiudila Chiudo? Perché non la chiude Ok Quindi Primo stage fatto Ok Ah, io primo Uccisione generale Una seconda Io sono andato a casa Ultima 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 Ma come? Eh, vabbè L'ho ucciso solo te Grazie a le balle E Ghilly Mi Ghilly Vabbè Ghilly si è fatto E' un uccidere Stavo pensando a tutt'altro Beh, bello spettacolo Condo, ma tu stavi veramente giocando Io stavo andando in giro Combattivi di corpo a corpo io Oh Ok, dai Vediamo di stare un po' più alti Questa volta Eh, ma se sei basso Dai, andiamo Sì, figa Parli te che hai due centimetri In più di me in altezza Quanto sei alto, Antonella? Eh, lei è un cinquanta tre Alta donna Sei molto alto, Antonella Bella Ragazzi Voi dove siete andati? No, ragazzi E' un macello qui Ragazzi Venite che ho trovato una scorciatroia È un macello Ragazzi ho trovato Basta ragazzi Cioè È vero Da questa parte È vero Guardate C'è una scorciatroia Mi prude il ginocchio Mi sono buscato una freccia nel ginocchio No, raga, non è tanto scorciatroia Però mi so C'è un giochi in giro A chi Aspettate, lo vado a uccidere Lo vado a uccidere Ti vengo a proteggere Dove vai? Ok, è ucciso Non è che lo può guidare lui, eh Non è che è una macchina Che dici Ma si, guidiamolo Giochi, di là Sì Eh, magari lo potessi guidare, no? Sarebbe veramente una figata Ma a parte che c'è una modalità così, eh Che interpreti Sì, sì L'altra volta abbiamo giocato due ele Sì, sì Che abbiamo pure perso malissimo Cioè Sì, incontro con lo stronzo di mele Ok Ho ucciso un charger Raga, di qua Ci sono le scalette Senti, i zombie Come li hanno vestiti questi zombie? Mi stanno distruggendo Ma perché quelli stanno sotto? Non lo spieghi, Gilly Non lo so, non ho capito Perché sono così ultimi Aiuto Raga, aspetta Mi sa che Writers ha dei problemi Eh, mi sa che abbiamo avuto Abbiamo un uomo a terra Sì, vedo Sta vicino a me Oh, ti ho sparato nel culo Scusa Grazie Ok ragazzi, inseriamo Andiamo Oh, raga, dai che devo prendere il treno io Su Dai che se non arrivo in ritardo Dai Mi sto curando Un momento Eh, che palla Ragazzi Samuela Riesce a essere Samuela anche in gioco Che cosa vuol dire? Raga, prendete questa molotov Sì, sempre troppo calmo Poi mia mamma mi rompe le palle Se dico quel forche È appena detto ragazzi È un genio Eh, aspetta io per trovare monotov Perché è la perdere Tassazione Eh, in realtà Si sa Scurri su YouTube Per forza Sdrogo Sdrogo Eh, fatta Ma se Raga Io adoravo quando lo rilavano Ma perché gli iconica ha sempre qualcuno addosso Sì, però Almeno avessi qualche donna addosso No, sempre dei mostri Ma sapete cosa fa un mostro la sera? Cosa fa al museo più che altro Ma ecco Come bruciassi delle battute pessime Ma Cioè, le Sono brutte Le dici pure da schifo No, di qua, di qua, di qua Va a vedere la sua mostra preferita No, di qua, raga Ci sono anche dei proiettili qui Ok, munizioni Quelli Ottimi Sì, però a me non servono Perché sto andando solo di coltello Cioè, di spada O perlomeno sono delle cose a mo' di munizioni Cazzo, pia, condo A condo, sì A protetto Ragazzi, se volete qua c'è un M4, eh A terra Oh, raga, guardate Qua c'è quello lì Che tipo C'è uno che è depressissimo Ecco Ma raga, raga, raga Venite qua dentro il vagone Sì Ragazzi, qua c'è un problema Sì Mi ha preso uno smoker Un enorme problema E c'era con me Arrivo, 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 arrivo Ragazzi, c'è una mega ondata Ragazzi, c'è una mega ondata Sì, io sto morendo Se qualcuno non mi aiuta Eh, sto arrivando, ragazzi Riesco Se riesco a muovermi verso di voi Antonello, faccio io Ok, arrivo Adesso ti sento Ok, Samu Mentre tu ti prendi cura di loro Io mi curo Nessuno ha una medicina o qualcosa Ho già fatto Sì, sì, sì C'ho io Ho un po' di Deguadino Ecco, uno è l'ora Ragazzi, qua dentro A vedere che c'è un tossicone Ah, no, è uno sbirro Uscito dall'after Guarda che ha fatto after Sbirro Sbirro tipo ho fatto after Minchia, frate Ragazzi, cavolo La La skin di Ghillie È proprio quella più appropriata Lo rispecchia proprio Allora Destra o sinistra? Eh, perché è niga E' destra o sinistra? Anzi, internate nelle stanze A vedere se c'è della roba Ma no Molo, 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 molo Molo, molo, molo Prenda una mola Certo Lili Comics è già lì Perché? Puoi dare Oh, ti serve l'adrenalina? Oh, chi è che l'ha lanciato? Io Quello è il top Qualcosì Dov'è che l'hai trovato? Io Ma arrivando Eh, porca paletta C'è il mostro del motore seriale Ragazzi, c'è il mostro del motore seriale C'è il mostro del motore seriale Nel senso Oddio, c'è la con me Che ha tantissimo Ho ucciso il mostro del motore seriale, raga Sì Vedo, si sia buggato nel muro Oh, oh, c'è la con me adesso Mi ha ucciso sto maledetto È gigante E si accanito su di me E nel frattempo io ricaricavo con il mio Sono a terra, anch'io Eh, raga Mi devo salvare io adesso? Oh, l'ho ammazzato Ok Adesso mi devi proteggere Kondo, sei il mio salvatore No, no, mai più C'è scritto Io comunque sono a più uno, ragazzi Vedo grigio Nel senso che vedo grigio Ah Vedo grigio Nei miei occhi No, che pirla Ho lasciato la spada Effettivamente siamo tutti tipo Tanne che Tranne Antonella Siamo tutti Appena curata Se però All'adrenalina Vi può essere utile Anch'io L'adrenalina Anche a Ghilly Anche a Kondo Ma io l'adrenalina Dov'è? Ghilly, fermati Puoi dare la adrenalina A Mr. White Ma chi l'ha data? Ma chi l'ha data? Ragazzi Qua siamo Ragazzi Ma cavoli Antonella Dovevi darmela E ho premuto E Ah se fosse facile Solo premendo E Ragazzi Stiamo raggiungendo Il livello di Mamma mia Mi chiedo perché Non stiamo registrando Ecco Chi li sta registrando? Ah Ok Eh ma queste sono le battute Ascolta ragazzi Qui in giro Dovrebbe esserci un Prima di far partire Il citofono Magari Il citofono Cosa vuoi fare? Oddio 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 Niente Niente Io sono morto Eh raga Un attimo Che io Ah ma no Ma questa cosa di benzina Non servì Oh raga Quanti vi devo aiutare No ma Ghilly è morto La prossima volta Che viene abbattuto Morirai Che bello Ma non so che Brutti Bastardi Adesso ci puoi solamente Visionare Sì però non copermi le battute Perché sto qui Io sono riuscito a curarmi Oddio Adesso qua fucili Ma è meglio prevenire Che curare Ah raga raga Vi faccio vedere una bella cosa Guardate Chi è che ha Oh raga Non l'avete visto te Questa cosa Ghilly Spostati da lì Aiuto 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 Eh io sono terra Come faccio a spostare Io ho un gioco in testa Mi si sa Aspetta aspetta Che io riesco a proteggere Mr. White No ragazzi Siete morti Siete vottuti No 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 Mr. White Non si riesce a salvare No no Stiamo perdendo malissimo Stiamo perdendo malissimo Stiamo perdendo malissimo Raga 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 Stiamo perdendo Un problema Mamma ti ho voluto bene Ragazzi Questo episodio sperimentale Di gaming Finisce qui Lasciate un mi piace Un commento Per ricordare i nostri Quattro eroi Morti per la patria Ci vediamo Al prossimo episodio Di Left 4 Swag Grazie a tutti